Ciao amiche e amici, mi avete chiesto qualche giorno fa di farvi, dopo che ho fatto i 10 rossetti preferiti al momento, mi avete detto perché non ci fai vedere i 10 rossetti rossi preferiti al momento? Allora ho fatto un po' fatica, vi dirò, perché non uso tantissimo il rosso e praticamente se ne mancano due vi mostro tutti i rossi che ho. Mi mancano solo due che erano molto scuri, ho pensato, vabbè, privilegiamo proprio i rossi rossi. Ve li faccio vedere non in ordine di importanza, di rilievo, di bellezza, ma così, random. Allora, di Maybelline New York, questo opaco, che è il 382 Matte Red For Me. Ottimo. Come vedete è un bellissimo rosso. Quasi un po' fragola, direi freddo. Molto bello. È opaco, no, no, è opacissimo, eh. Poi abbiamo di Mesauda Milano, di questa collezione Limited Edition One Love, lo 03 Passion, che è un rosso rosso tendente un po' allo scuro. Più scuro e direi decisamente più opaco di quello di Maybelline, che però a me piace molto, non è un difetto. Vado troppo veloce, riuscite a vederli. Quindi questo è il Maybelline e questo è il Mesauda. Questo è il 382 e questo qua invece è lo 03, però della collezione One Love. Scusate, raccolgo. Vi voglio lasciare in quest'ordine, così ve lo scrivo nell'info box. A proposito di rossi, questo che è un campioncino, di Claren. Anche questo è un signor rosso. Ed è dei Velvet, dei Jolui Rouge Velvet, il 742, dei V Velvet. Eccolo qua. Questo è il Claren, bello, eh? No, no, ma tu, sono tutti belli. Poi ne abbiamo due di Peter H creati da Giulia Cova. Uno è Incensum, è il numero 59. Che è un rosso freddo che tira, che ha dentro anche tanto fucsia. Riuscite a vedere? C'è un braccio storto. Bello. Molto bello, Incensum, numero 59. Poi abbiamo, questo invece è un rosso caldo, è Passion, sempre di Peter H. Questo è un rosso caldo. A me sembra più caldo, vero? Guardate, questo è freddissimo. Questo secondo me è un po' più caldo. Poi ne abbiamo di Clio Makeup. Abbiamo Baciami Stupido, che è stupendo. Lo mettiamo di qua, dai, così. Ecco, liberiamo un po'. È classicissimo. Secondo me anche questo è freddo. Beh, io li prediligo e quindi tendo ad usare di più quelli freddi. questo è il Midnight Call, che è legato a un ricordo molto carino, perché l'ho comprato quando ha aperto il primo Clio Pop Up qui a Milano, che ha aperto mi sembra tre anni a file. Il secondo anno non stavo bene, non sono potuto andare, il terzo anno sono andata e poi non l'hanno più aperto. Comunque, Midnight Call, eccolo qua, un po' più scuro, bello. E finiamo il filotto di quelli di Clio, questo qua ve l'ho già fatto vedere, sì. Baciami Stupido ve l'ho già fatto vedere, sì. E questo è The Winner Is. Questo forse è il rosso più classico che ho. Che dite, bello, è bello. Questo proprio vedete com'è equilibrato, né freddo né caldo. E questo tira un po' il viola, questo è un po' chiaro. Questo proprio è rosso magnifico. A proposito di rossi magnifici, abbiamo questo di Shiseido. L'ha regalato una mia amica, è un campioncino. Ed è il 515, è talmente bello che, a parte che nella stesura è una meraviglia, morbidissimo. E che bello, bello, eh? Anche questo è abbastanza equilibrato tra il caldo e il freddo. Quindi può star bene un po' a tutti. E per ultimo ho messo, sono dieci, giusto? Sì, ho messo forse il pezzo da 90 che voi già conoscete. E' quello di Kilian, il 230, della collezione Les Rouges Parfums. Ed è Matte Dangerous Rouge. Io l'ho comprato un po' quasi alla cieca dal sito. Tra l'altro eravamo in zona rossa. Questo è il matte più matte che potete immaginare. Ed è meravigliosamente profumato. Il profumo, tra l'altro, non si altera. Ce l'ho da due anni. E che ve lo dico a fare? Guardate la meraviglia. È bello. Che bel filotto di rossi, eh? Eh, sì, sì, non si è alterato per niente il profumo. È ancora meraviglioso. Quindi, riassumendo per chi si fosse distratto o distratta un attimo. Questo qui è il 382 Red For Me Matte di Maybelline. Prendete appunti. Poi, questo qui è lo 03 di Mesauda, Passion, della collezione One Love. Questo qui su non c'entra in niente. Non è un rosso. È il Kiki di Clio. Poi abbiamo di Clarenne degli opachi il 742V, che è il terzo. Eccolo qua. Bello, eh? Bello anche lui. Poi abbiamo i due di Peter Huck. Questo è in Censum numero 59. Come vedete, è praticamente quasi un fucsia. Invece questo è un rosso caldo. Ed è Passion numero 59, sempre di Peter Huck. Li ho messi vicini così, vedete, guardate che differenza. Questo sembra un fucsia vicino a questo rosso. Questo è proprio caldo, secondo me sì. Cinque. Gli altri cinque li abbiamo messi di qui. E sono i primi tre, sono quelli di Clio. Il primo è Baciami stupido. Il secondo è Midnight Call. Dicendo giusto, sì. E il terzo di Clio è questo qua, che è il The Wineries. Stupendo. Questo è più freddo. Poi c'è questo e poi c'è questo. C'è anche Dominique, che è un rosso, ma è scurissimo. Anche Clio Patria è un bel rosso, ma molto più scuro. Poi c'è il 515, questo qua. Il 515 di Shiseido. Molto bello anche lui, Matt. E questo è, facciamo la ola, il 230 dei profumati di Killian. Tratto packaging pesante, stupendo. Non da borsetta, perché pesa tanto. Belli. Eccoli qua. Quindi, come mi avete chiesto, i dieci rossi preferiti del momento. Farò anche un video, perché qualcuno di voi me l'ha chiesto, sui miei rossetti storici. Io li ho tutti conservati, non li uso più. Rischio una dermatite e me li metterò sul braccio. Per voi questo e altro. Alla prossima, naturalmente. Fate quello che vi fa stare bene. E il faccione da vicino spaventa sempre anche il bambino.